Grazie a tutti. Di Anthony Marx, che mi è sembrata quasi una versione compressa del documentario di Wiseman, ci ha già dato un'immagine molto forte, anche se molto concentrata, del ruolo e del modo in cui una figura come lui vede il ruolo digitale in una situazione bibliotecaria importante come la New York Public Library nel futuro. Un'immagine, credo che si possa definire così, una logistica ultraintegrata. Immaginate che cosa significa mettere assieme i cataloghi di Harvard, di Princeton, della Columbia e di tutte le branches della New York Public Library. Una funzione di distribuzione digitale molto forte, su cui è già fortissima la New York Public Library. E' un progetto, questo invece tutto in prospettiva, di recuperare la falsa partenza di Google Books, con l'idea di una digitalizzazione attraverso le biblioteche, delle opere fuori commercio e orfane, che è un tema in qualche modo rimasto al palo delle discussioni e della pratica delle biblioteche digitali. Per tanto tempo si è parlato delle biblioteche digitali che hanno avuto il cosiddetto problema del XX secolo, cioè come fare ad avere all'interno delle biblioteche digitali i contenuti contemporanei. Ma questo in realtà è un problema risolto, vedrete, fa un atto con la nostra Dim Law, una storia che inizia nel 2009, ma alla New York Public Library è iniziata nel 2000 e nel mondo accademico gli editori hanno cominciato a distribuire contenuti digitali anche qualche anno prima. Oggi quindi abbiamo un paradosso, per cui le biblioteche digitali sono molto piene di contenuti antichi, per semplificare le opere nel pubblico dominio, le opere fino al 1860, per semplificare. Abbiamo una copertura straordinaria del contemporaneo, delle opere in commercio, perché tutti i grandi gruppi editoriali, ma anche tantissimi microeditori, oggi hanno una larga produzione in digitale. Quello che manca è in digitale esattamente questo corpo intermedio. Google Books in qualche modo è stato il sogno di riuscire a ottenere questo con tanti problemi, problemi posti dagli editori e che poi sono stati raccolti anche in sede giudiziaria. Può darsi che le biblioteche siano proprio il luogo, in futuro, per riuscire a riempire questo buco. Però io mi occupo di altro, mi occupo della storia di Mlol, che ne approfitto per darvi un quadro di dati, non solo sull'ultimo anno, ma sul periodo 2011-2018. Mlol è stata lanciata nel 2009, ma è solo dal 2011. Nel 2009, tra l'altro, è iniziata proprio con un seminario che abbiamo organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana degli Editori per proporre l'idea agli editori italiani, idea che però si è concretizzata e diventata effettiva solo due anni dopo. Abbiamo messo a punto molti componenti diversi di questo progetto in questi quasi dieci anni, compiamo dieci anni nel 2019, in particolare aggiungendo una forte attenzione all'aggregazione di contenuti aperti per le biblioteche, una funzione che intendiamo svolgere sempre di più e che è una sorta di filtro dal punto di vista degli interessi bibliotecari italiani su quello che fanno aggregatori di contenuti open come Europeana o la Digital Public Library of America, però declinati dal punto di vista degli interessi di un pubblico italiano. Ma non voglio assolutamente tediarvi con i dettagli del nostro percorso. Oggi però, a dieci anni dall'inizio, le dimensioni di quello che noi offriamo sono secondo me significative. Siamo partiti senza ebook, oggi il nostro catalogo, considerando il trade e l'academic di tutte le lingue, copre un milione di titoli ed è una differenza sostanziale. Considerando gli italiani e gli stranieri offriamo un catalogo di 92.000 titoli e sto parlando esclusivamente della collezione commerciale e sono tanti altri, il pubblico, il pubblico degli utenti in nulla è un pubblico aumentato notevolmente. I nostri utenti attivi sono 200.000, ma gli utenti registrati sono 800.000. Come sapete, nelle biblioteche c'è una ciclicità di ritorno degli utenti estremamente interessante. Abbiamo messo su un sistema di prestito interbibliotecario che consente ad ogni biblioteca, anche piccolissima, anche scolastica, di entrare in circuito con le altre biblioteche con budget minimo. Quello che credo sia interessante, e vogliamo sfruttarlo sempre più negli anni prossimi, è considerare i dati di Mlol un campione rappresentativo. Vogliamo farlo analizzandolo noi, ma anche facendoli analizzare a soggetti e a istituzioni terse. Mlol è quasi in oltre 5.500 biblioteche pubbliche, statali, di ente locale, accademiche. Stiamo iniziando ad entrare nel settore scolastico, siamo in più di 350 biblioteche, ciascuna delle quali singolarmente gestisce una collezione di book. Quindi credo sia un campione significativo per capire che cosa succede dal punto di vista dell'uso dei contenuti digitali. Ecco, il primo dato che vorrei presentarvi riguarda i prestiti di book e i prestiti di altri media su Mlol. Quello che vedete è un dato chiarissimo. Nel 2018 noi raggiungiamo, è una stima, però è fatta con i dati a fine novembre, quindi è una stima molto significativa e comunque fatta per difetto, raggiungeremo 10 milioni di transazioni. Questi 10 milioni di transazioni sono fatte però per una piccolissima parte, 660 mila da prestiti di libri, e per il restante 9 milioni e passa da transazioni di altri media, in particolare giornali quotidiani, audiolibri, musica, eccetera. Quindi quello che vedete è che, sebbene ci sia una crescita molto più forte degli book, questi 660 mila che sono pochi, sono però il 30% in più dell'anno scorso, mentre invece la crescita sugli altri media è molto inferiore. Cioè c'è uno scarto fortissimo tra libri e altri media su Mlol. Se guardate però quello che è successo dal 2011 al 2018 dal punto di vista degli utenti, che hanno consultato libri e altri contenuti, quello che vedete è un quadro molto diverso, e cioè se nel 2011 all'inizio, ma ancora nel 2012-13, il numero degli utenti che chiedeva libri digitali alle biblioteche era molto piccolo sul totale, oggi questo numero è quasi pari. Cioè gli utenti che accedono al nostro sistema chiedono libri in misura praticamente identica a quella alla richiesta di quotidiani, di audiolibri, di musica, eccetera. Non solo abbiamo studiato, non ho qui la slide, ma abbiamo studiato quali sono le prime cose che fa un utente che arriva su Mlol e la richiesta di libri è assolutamente la prima. Poi scopre che può leggere il Corriere della Sera, la Repubblica, il Fatto Quotidiano e la cosa gli piace molto, ma diciamo tra le prime cose che fa è c'è una richiesta di libri. Questi dati significano una cosa semplicissima, e cioè che l'offerta di altri media si sta saturando, cresce un po', ma si sta saturando, e probabilmente quello che succederà è che cambierà, evolverà cambiando la sua configurazione interna. Ci saranno più lettori di e-book, scusate, più lettori di audiolibri, piuttosto che di quotidiani, ma sarà una ristrutturazione interna. Mentre invece la domanda di e-book è ancora molto più grande dell'offerta e viene compressa, questo è il punto sul quale voglio attirare la vostra attenzione, viene compressa dalle restrizioni locali relative al numero di e-book che possono essere presi in prestito. Io vi faccio un esempio banale, perché ormai sono anni che gioco a confrontare i numeri italiani con quelli del Nord America. Non ho usato oggi la New York Public Library, che è uno dei miei esempi preferiti, giusto per non, in caso fosse rimasto, non dover ingaggiare direttamente Anthony Marx. Però ho preso la Toronto Public Library, che ha fatto nel 2017, quindi sono dati vecchi di un anno, 4,6 milioni di prestiti di e-book. Quindi tutta l'Italia fa una piccola frazione dei prestiti che fa la Toronto Public Library. E questa è una cosa sconvolgente dal mio punto di vista, perché è un fatto tutte le debite e proporzioni. Toronto è una città di 2 milioni e 700 mila abitanti. Ovviamente erano tanti più lettori di e-book dell'Italia, ma se anche fossero tre volte tanto, quattro volte tanto, questo non giustifica questi numeri. Erano biblioteche più utilizzate, ma di nuovo questo non giustifica i numeri. C'è un punto banalissimo. Se voi guardate la dinamica di uso degli e-book, questa dinamica di uso è semplicissima. Gli e-book nelle biblioteche pubbliche nordamericane e canadesi hanno esattamente lo stesso valore che ha il libro fisico. Cioè posso prenderne a prestito tanti quanti sono i libri fisici che posso prendere a prestito. Alla Toronto Public Library il massimo numero di titoli digitali che posso avere a prestito contemporaneamente è 30. In Italia il numero medio è 2-3. Questo è il punto, secondo me, decisivo sul quale riflettere. Cioè in qualche modo, per ragioni che ovviamente non sono, diciamo, sono ragioni di budget, ma diciamo, quindi non mi nascondo dietro un dito, ma evidentemente questo è un tema significativo. Non possiamo ritenere che la restrizione, che questi dati, il dato italiano, sia rappresentativo della domanda italiana. non lo è, è rappresentativo della dinamica di flusso che le biblioteche italiane hanno deciso, per ragioni prevalentemente di budget, di dare al digitale. Ma questo credo sia un problema, se è vero quello che diceva Anthony Marx stamattina, cioè che questo è un tema, diciamo, la distribuzione digitale è un tema, diciamo, abbastanza rilevante per il futuro delle biblioteche. Tra l'altro questo è rilevante anche perché se guardate come variano gli utenti, se prendo gli utenti, per esempio, dell'edicola LOL, amatissima, e gli utenti che leggono libri, quelli che crescono fortissimamente sono i lettori forti, quindi questi sono i dati 2017-2016. vedete che la crescita relativa dei lettori forti rispetto ai lettori deboli è molto alta, mentre invece cresce, per quello che riguarda l'edicola, quindi la consultazione dei quotidiani, il best seller su LOL, la percentuale di lettori deboli, cioè lettori occasionali, che accedono una volta al mese, eccetera. Quindi, in qualche modo, questa distanza è una distanza che viene, diciamo, questa differenza di opportunità tra il fisico e il digitale colpisce in modo particolare i lettori forti di libri. Un altro dato sul quale, insomma, completamente diverso, sul quale voglio attirare la vostra attenzione, è un dato classico, ne ho parlato tante volte, ma è la fortissima differenza nord-sud nelle biblioteche di ente locali. Qui c'è una nettissima e incredibile preponderanza del centro nord, una preponderanza che, in modo interessante, non c'è nel settore scolastico, dove invece, per quanto si tratta ancora di poche unità, però comunque di un campione rappresentativo, sono 350 biblioteche, invece il sud è molto ben rappresentato, sono tantissime scuole della Campania, della Sicilia, della Puglia, della Basilicata, eccetera, eccetera. Quindi, il tema della differenza territoriale è un tema ancora molto forte, se osserviamo, queste sono distinzioni che riguardano, queste prime due diapositive, riguardano il numero di clienti Mlol, quindi, diciamo, potrebbero non essere significative dal punto di vista del pubblico, ma se guardate, questo è uno screenshot di una giornata tipo su Mlol, diciamo, la differenza sud-centro-nord è fortissima, Torino, Milano, Milano in primis, Torino e Roma sono dei centri, e poi c'è la dorsale della Via Emilia, è un'area della Toscana, il Trentino, che sostanzialmente coprono la quasi totalità degli usi quotidiani della piattaforma. Dove si usa Mlol? Mlol si usa ancora al 57% su desktop, su computer, e per il restante 43% su dispositivi mobili, prevalentemente tablet. Quello che invece è interessante è che se ci domandiamo dove si usa l'app Mlol Reader, la nostra applicazione di lettura degli e-book, scopriamo che il 64% degli utenti, più del 64%, qua il 65% usa questa applicazione su uno smartphone, e solo un 35% su tablet. Credo che questo è un dato che abbiamo individuato da parecchio tempo, l'evoluzione tecnologica degli smartphone e anche l'evoluzione dimensionali porta questi lettori a differenze relativamente piccole rispetto a un reader di dimensione base, e tutto sommato anche al formato tascabile di un libro cartaceo. Quando? A che ora del giorno si consulta Mlol? Più è divertente perché avete due prime time che sono proprio opposti, cioè se chi consulta via web consulta questa Mlol prevalentemente tra le sei e le dieci del mattino, mentre invece diciamo l'uso più intenso dell'applicazione Mlol Reader si vede nei giorni centrali della settimana, ma questo vale anche parzialmente per gli utenti web, a partire dalle dieci di sera, diciamo, quindi il nostro prime time è diciamo su web alle otto del mattino e sull'app Mlol Reader alle dieci di sera, ma questo è un dato che, però diciamo, il dato che vi invito a considerare è che Mlol è usata 24 ore su 24, cioè per quanto ovviamente ci sia una differenza significativa tra le quattro del mattino e le otto del mattino, diciamo, l'ideale di una biblioteca che offre un servizio diciamo di accesso ai contenuti dell'utente 24 ore su 24, 35, 65 giorni l'anno, è un dato reale. L'altro elemento che vorrei sottolineare è l'e-landing come fattore di cooperazione, cioè come catalizzatore di cooperazione. Quello che sta succedendo un po' in tutta Italia, non ho il tempo di approfondirlo, è il fatto che si costruiscono delle reti di cooperazione sempre più grandi, sempre più forti e sempre più diffuse. La più grande è una rete diciamo che agisce in Lombardia, che ha come capofila il CSBNO, ma ne cito una relativamente piccola che è fatta di 35 biblioteche scolastiche che si chiama Biblò e però sono 35 biblioteche scolastiche che vanno dalla Val d'Aosta alla Sicilia e credo sia un esperimento abbastanza unico, c'è il sistema trentino dove ogni singolo comune agisce nell'acquisto cooperativo di contenuti digitali c'è perlomeno tre regioni l'Emilia Romagna l'Umbria e la Toscana un intervento diretto dell'ente regionale a favorire la cooperazione delle biblioteche questo credo sia un dato molto importante le biblioteche digitali significano cooperazione cooperazione e possibilità diciamo di collaborazione operativa a un livello che probabilmente gli istituti bibliotecari tradizionali non 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 potevano raggiungere due parole rapidissime se ho ancora qualche minuto sui su quelli che penso siano i problemi aperti nel settore dell'e-landing in particolare per quello che riguarda gli e-book siamo molto scontenti del DRM del DRM esistente non del DRM in generale dei DRM esistenti che sono ancora un problema forte per gli utenti gestiamo circa 15.000 transazioni di helpdesk l'anno e la sta grande maggioranza diciamo dei ticket che riguarda la gestione del DRM delle problematiche eccetera tra l'altro questo da è un incredibile vantaggio competitivo che hanno operatori come Amazon che gestiscono la faccenda con tecnologie proprietarie totalmente inaccessibili all'esterno e totalmente trasparenti sui diversi dispositivi noi usiamo il DRM che viene diciamo per lo più usato dagli editori dai distributori degli editori per far circolare gli ebook ed è un sistema il sistema Adobe è un sistema che ha dei forti problemi quindi pensiamo che lo studio di nuovi DRM sia un tema forte ci sono delle iniziative c'è un'iniziativa legata al progetto Redium LCP ci sono operatori privati come la Sony c'è il tema del stream c'è l'evoluzione del social DRM pensiamo che questo sia un argomento caldo sul quale lavorare mantenere in uno stato di minorità gli utenti di ebook che accedono attraverso il DRM Adobe credo che non convenga a nessuno c'è un tema di approval plan uso un termine tecnico per dire una cosa che sul libro fisico si fa sul digitale ancora poco sulla connessione tra libro fisico e digitale non si fa quasi mai cioè l'idea che esista una logica specifica di acquisto in cui il digitale ha un ruolo determinato e che può essere diciamo anche con dati e parametri oggettivi messo nel ciclo degli acquisti delle biblioteche ecco questa è una cosa che non si fa diciamo compro se esce un bestseller lo compro più in digitale su carta e se devo aumentare molto il numero di copie userò il digitale sono tutte scelte che ovviamente dipendono dai contesti e dalle scelte dei bibliotecari ma sono scelte che ancora non si fanno si tratta ancora di due sistemi di acquisto completamente disintegrati c'è il tema del digitale nella biblioteca fisica noi siamo in 5500 biblioteche di ente locale ma probabilmente se intervistate un campione di questi bibliotecari scoprireste che loro non considerano questo servizio che pure è pagato dalle loro istituzioni spesso tanto come un loro servizio addirittura in alcuni casi non viene messo tra nell'elenco dei servizi della biblioteca specifica quindi abbiamo una rete bibliotecaria che magari fa un investimento consistente e il singolo bibliotecario che percepisce questo come un servizio esterno questo è un errore è un errore così come sarebbe un errore considerare un servizio esterno il catalogo semplicemente perché viene gestito da un fornitore esterno e infine c'è un problema di formazione un problema di formazione fortissimo perché in tanti contesti noi sappiamo con dati certi che è in primis tra i bibliotecari che c'è un divario così come accade nel mondo della scuola che c'è un divario digitale importante su cosa stiamo lavorando quali sono le aree di ricerca e qui chiudo rapidissimamente un dato interessante sono i open data che sono insomma un'espressione un po' gergale che vuol dire tutto e niente dal mio punto di vista open data significa spingere tutti a rendere pubblici i dati di consultazione i dati catalografici i dati che provengono dal mondo delle biblioteche perché le biblioteche sono frequentate dal 10% in alcuni territori dal 15 al 20% della popolazione generano un volume incredibile di informazioni sulle abitudini di lettura degli italiani e però noi continuiamo a utilizzare ancora pochissime fonti commerciali costruite a campione e non ci interessiamo a questi dati ovviamente avere open data e renderli utilizzabili non è affatto una cosa semplice ma pensiamo che questo sia un lavoro sul quale merita iniziare ci sono delle biblioteche che hanno già cominciato a fare stiamo lavorando moltissimo sul tema dei modelli di intelligenza artificiale in parte per usi banali o perlomeno consolidati il sistema di raccomandazioni eccetera è un tema classico gli operatori commerciali raccomandano per vendere le biblioteche devono raccomandare sulla base di criteri diversi ma ci sono anche altre aree interessanti per esempio di collaborazione sulle chiuso digital humanities sulle quali vogliamo lavorare metadati alta definizione triple AF diciamo rendere disponibili a tutte le biblioteche anche un'infrastruttura per la condivisione di immagini ad altissima definizione mi fermo qui e vi ringrazio grazie grazie a tutti